Con Reia, Ceberiscia che gli ha preso il posto Ma sì, alla fine Saranno Buffon, Marchetti e Sirigo Sicuramente i convocati Però se un giorno Se continua così Se gli mettiamo davanti una difesa migliore E se tutto, secondo me Se conferma i miglioramenti Perché tutto sommato è giovane Secondo me un posto Nei tre, perché se penso Che c'è andato A Meglia Che ci sia andato a Meglia A Meglia Ci può andare chiunque Assolutamente Vogliamo ricordare il 2008 Dopo l'anno spettacolare di Sereni L'Ido Nadoni scelse Non mi ricordo più Forse a Meglia Forse riconfermò a Meglia Non vogliamo citare Sereni Sereni nel suo primo anno a Torino Ebbe la stessa Fu la stessa scommessa che adesso Ipadelli Fu preso dalla Lazio, non giocava da tre anni Insomma situazioni difficili Alla fine Quell'anno lì Il primo anno L'anno che era Se non sbaglio Il 2007-2008 Che arrivamo a quindicesimi Se non sbaglio Comunque Lì era di quello Insomma Lì mi chiesi Ma come? Non lo convoca? Che aveva veramente sostenuto Un campionato ad altissimi livelli Purtroppo sapete La Nazionale Ma così come anche Le rappresentative dilettantiste Insomma Vabbè Qui entriamo in discorsi Che non c'entra nulla Però Oltre all'importanza Oltre soprattutto All'impegno Conta anche il nome E chiaramente diventa difficile Anche tra un anno Due anni Vedere un Padelli Convocato in Nazionale Lo dico con tutta onestà Anche perché Insomma Ricordiamoci che Magari Matteo Gli stessi tifosi Che adesso Magari Come te dicono Ma potrebbe Un tempo Potrebbe un giorno Giocare In Nazionale Sono gli stessi Che mesi fa Che dicevano Ma che cazzo è Pagli Vogliamoci Esatto Quello è vero Insomma Bisogna stare Un attimo Che piedi per terra Comunque Sì è un commento Che ci può stare Va bene Dunque Procediamo Col 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 vero Con la vera parte Che riguarda La voce del tifoso Ovvero La voce Al tifoso Perché ci hanno Mandato Tanti tweet Il primo Vabbè sicuramente Riccardo Solese Poi Andrea Renga Poi c'è Alessio Bert Il Bert Dunque Insomma Ci sono tanti ragazzi Che ci hanno chiesto Di commentare Delle situazioni Dunque Abbiamo già citato Quello di Robin Hood Che noi ancora Ringraziamo ancora Della fiducia data E incominciamo Con quelli che non abbiamo Ancora letto Dunque Canale Toro Ovvero Ricchilbono 97 Ovvero Riccardo Solese Ci fa due domande Una la rivolgo A Stefano E una la rivolgo A Giacomo Dunque La prima La rivolgo A Stefano Ed è Masiello Merita rinnovo Anche se come rincalzo Eh sì 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 Chiaramente Ovviamente Abbiamo getto più volte Nel corso di Di parecchi sport Hall Che non è Quel giocatore Che può Insomma Può dare Quella fiducia Sulla fascia Però le sue ultime uscite Sono più che discrete Anzi Sicuramente È un giocatore Che Non chiede tanto Si mette a disposizione E questo è sicuramente Una nota positiva E sta sfruttando Sicuramente L'occasione di Ventura Dopo Alcune performance Veramente Oserei dire Insufficienti Di Pasquale Quindi Oddio Ovviamente Se continua bene È giusto rinnovarglielo Però ovviamente Il Torino Poi nella sessione estiva Dovrà Chiaramente Prendere Un giocatore Di rilievo Su quella fascia Perché manca Bisogna dirlo Manca Però Masiello Sicuramente Sta facendo bene Merita Ancora un rinnovo Però Di un anno Attenzione Di un anno Ancora Che può sicuramente Contribuire alla causa Quindi perché no Giacomo Quando tornano Gazzi E l'Arrondo Gazzi Sicuramente Starà via Per un mesetto Dato che Comunque sia Una distrazione Ai legamenti Della caviglia È qualcosa Che comunque sia Necessità del tempo Prima di essere Recuperata completamente Anche perché È questo Il buon Stefano Ma anche noi Che siamo Arbitri Lo sappiamo dire Quando la caviglia Non va Francamente Risulta anche Difficile correre Se non impossibile Dunque Assolutamente È proprio Un punto Forse peggio Di altri A volte Con un dolore Al piede A volte Con altri tipi Di infortuni Si può Si può Continuare a giocare Ma davvero Quando la caviglia Non funziona Non ce n'è Poi tra l'altro Non è una botta Ma è proprio Una distrazione I legamenti Dunque credo Che per almeno Un mese Starà fuori Se non di più È chiaro Perché poi Un mese Poi Bisogna ritrovare La forma Non voglio Essere pessimista Ma Diciamo anche Un mese e mezzo Per l'Arrondo Invece In teoria Dovremmo essere Vicini al Pieno Oriente Esatto Esatto Dunque Proprio pochi minuti fa Marcelo ha twittato La seguente frase Bravi ragazzi Un punto importante Domenica Sarò con voi Ergo L'Arrondo Probabilmente Sarà pronto Per dare Manforte alla squadra Domenica prossima In Toro Bologna Dunque Un l'Arrondo Che rientra Almeno in panchia Contro il Bologna Finalmente Siamo contenti Per Marcelo Giusto ragazzi? Sì Sì Assolutamente Perché sicuramente È meglio Di quei due Non attaccanti Di Maggiorini E Barreto Maggiorini si impegna Almeno lui fa il mediano Ma Barreto Mamma mia Dunque L'Arrondo Può essere anche utile In momenti difficili Perché ripeto È un attaccante Non è un campione Come ripetiamo sempre Però Ha caratteristiche Diverse È un centravanti Puro È un armadio In alcuni momenti Della partita In cui bisogna Fare all in the box Ma non il nostro Quello avversario È davvero necessario Avere un attaccante Che sappia fare A sportellate Aprire gli spazi Dunque E infatti Ventura Nelle prime partite Della stagione L'ha inserito Quasi sempre A parità in corso Dunque Davvero Può essere Un ritorno importante Come rincalzo Chiaramente Certamente Dunque Mentre Naturalmente Ci dicono Che Padelli Ci chiedono Padelli Da nazionale Ovviamente Ripeto È una suggestione Era un commento Da tifoso Ovviamente Io penso Che Padelli Possa Se crescerà Tanto Ma tanto Essere Un terzo Un secondo Da nazionale Ma tanto È una suggestione Ovviamente Non è la verità Ripetiamo In nazionale Ci vanno altre persone E sicuramente Non è Non sono Padelli Anche se Anche se sta facendo bene Assolutamente Dunque Adesso Giro a voi Un tweet Di Andrea Renga Che Dà un altro ruolo A Tommaso Berni Oltre che quello Del terzo portiere Del toro Però stavolta Perché Voi pensate Che sia lì Solo per occupare Un posto Quando si mangia No Non è vero Perché Alcune voci Dicono Secondo Andrea Renga Che Berni Abbia un carisma Fondamentale Nello Spogliamento Ovvero che sia Un punto di riferimento Cosa ne pensate voi? Stefano Dai Prima Stefano Sì Può essere Può essere Perché comunque Insomma È un ragazzo Che Viene da Una carriera Un po' Come dire Un po' difficile Giocava Forse più Da giovane Che sicuramente Insomma Adesso Ecco Chiaramente Sicuramente Però Può essere Importante Perché Una persona Che può dare I giusti riferimenti E può essere Una Una persona Che può Trascinare Un gruppo Spesso Guardate Ci sono figure Che magari Non sono Come dire Le luci della ribalta Ma che Lavorano Diciamo Nel retroscena E sono persone Che Come dire Infondono carisma Danno consigli E questo sicuramente Potrebbe essere Il ruolo Di Bernie Io ho visto Parecchie Foto Video Di lui Che Insomma Intratteneva Tutti Con Alcune battute Ma va bene Quello è normale Sì Secondo me È proprio Una figura Che veramente Tiene il gruppo unito Anche magari Nei momenti Nei momenti Difficili Io ho visto Più volte Immobile A parecchi suoi gol Andare a esultare Proprio In panchina Da Bernie Ecco Questo è Per esempio Un Un episodio Che bisogna citare Niente Quindi Per il resto Diciamo che Ovviamente Fa piacere Vedere Un giocatore Messo in disparte Perché di fatto Non giocherà Proprio che Se non si facciano male Padelli e Gomez Però È un giocatore Che non avrà mai spazio Però il fatto che Si unisca la causa E dia una mano È sicuramente positivo E lodevole Perché bisogna assolutamente Apprezzare Questi Questi atteggiamenti Certo Mentre intanto Ci c'è da dire anche Ci sono da dire anche Altri due tweet Perché sono quelli di Bert Alessio Che ci ha scritto Ma che stranamente Non ci appaiono Sul feed Delle interazioni Dunque Dobbiamo andare Sul suo profilo Dunque Alessio Bert Eccepisce Questa cosa Sulla partita Il Milan Ha dominato Tutto il secondo tempo Torino Inguardabile Nella ripresa Gol Meritato Credo che Intenda il gol Del Milan Ragazzi Che cosa ne pensate voi? Torino Inguardabile Nella ripresa Sono d'accordo con te Giacomo Sono d'accordo con te Forse Forse è eccessivo Perché comunque sia Nella ripresa C'era un Milan Galvanizzato dal pareggio Che andava Tutta Addirittura Con Kakà Spostato dalla parte Dove poteva far più male Perché con Darmian Non ce n'era Per nessuno Dunque spostato Da Masiello E' difficile Quando una grande squadra Si comporta La grande squadra E non da provinciale Dunque Il Milan Per un quarto d'ora Ha provato All'impazzata Buttando palloni Cross Filtranti Tutto quello Che si poteva fare Per pareggiare E poi dopo il pareggio Andare in vantaggio Dunque E' già tanto Che abbiamo avuto Dei difensori Con addirittura Maximovic Che provava A far ripartire L'azione Che sono riusciti A sbrogliare La matassa Oltretutto Vives Che è salito di tono Ha azzeccato Anche qualche passaggio Nel secondo tempo I due Che davvero Non tenevano Il centrocampo Ieri Ossia Bascia e Parnedus Sono stati sostituiti Per dare un po' Più di dinamismo E credo che Curti Cercaduri Abbiano fatto Quello che potevano Vista la situazione Poi è chiaro Ripeto Non è una prestazione Eccelsa Sicuramente Dal punto di vista Della costruzione Di gioco Ma in fase Di non possesso Ragazzi Andatevelo a rivedere Davvero Una prestazione Eccellente Chiaro Sei d'accordo Con Giacomo O tifoso Ma oddio Sì e no Ma nel senso Che comunque È normale Ragazzi Capisco il commento Di Alessio Ovviamente Quando sei a San Siro Insomma Il Milan Raga Valenza Sarà il pareggio È normale Che magari Ti chiudi E preferisci Magari Ripeto Come avevo detto Prima nel commento Precedente Ripartire in contropiede Sperare Ma è giusto Impostarla così Cioè Comunque Il Milan Come ho detto prima Vivrà sicuramente Una situazione Di classifica Peggioro Rispetto Alla sua storia Però Bisogna comunque Ricordare Che da due settimane Che c'è Sedorf Comunque I giocatori Sanno cosa fare O comunque Provano A fare qualcosa Di decente Che non sia Prendere palla E calciare Così Alla Muzzo Come si faceva Con Allegri Quindi oddio Poi sei a San Siro Una storia comunque Pesante Cioè Quindi secondo me Va bene L'atteggiamento Del Toro Anzi Pensare che Abbiamo avuto Quell'occasione Con Farnel Nel primo tempo Potevamo andare Addirittura Sul 2-0 Anche all'andata Eravamo sul 2-0 E poi Sappiamo tutti Com'è finita Perché nel calcio Mai dire mai Però comunque Insomma L'atteggiamento Del Toro Non è da condannare Chiaramente Mi arrabbierei di più Se vedessi Un atteggiamento Così col Bologna In casa Domenica prossima E con Milano A San Siro Tutto qua Certamente Certamente Anche perché Insomma Gli ambienti E le squadre Sono molto diversi Alessio Bert Con una punta Di sarcasmo Dice Ma in nazionale Matteo Si riferisce a me Non ci va Padelli Ci va Vives Naturalmente C'è da spiegare Vives Grande Grande Beppe Grande In nazionale Naturalmente C'è da spiegare Un retroscena Perché io Lui è un mio amico Mio caro amico E l'anno scorso Con lui Bestemmiavamo Controvive Se è un po' Rimasto Il late motive Ciao Alessio Dunque Mentre sul discorso Che era partito Dal mio commento Su Padelli Si è avviato Si è avviato Un discorso Riguardo Maximovic Che ieri ha fatto Una buona partita L'ennesima buona partita Allora Francesco Benafro Che salutiamo Dice Maximovic È un fenomeno Secondo me Andy Kohn Che risponde Già L'unico difetto È che per il riscatto Chiedono Due milioni Ragazzi Maximovic Ha dimostrato In tutto e per tutto Di essere Un grande Giocatore Per l'età che ha Due milioni Vogliamo spenderli Per sto ragazzo Senza se E senza ma Assolutamente Assolutamente Non c'è neanche Secondo me Da discutere Sono Solo Sono solo Due milioni Se non si prende Adesso Non si prende più Eh Io infatti Dico Dico appunto questo Che meno male Che sono due milioni Perché per l'andamento Che sta avendo In queste ultime partite Eccetera Eccetera Diciamo che Due milioni Sono secondo me Fin pochi Considerando che Il ragazzo Ha 91 Che ha 23 anni Ne ha 28